Ne parlavamo tanto, tanti anni fa, di quanto è paranoica questa città. Il furgone entra nel parcheggio, Max e Marco vengono i danni dal retro del fiorino e gli si fa subito incontro un custode, che si avvicina a agitato mentre parla a una radio. Che rompi coglioni, guarda. Ragazzi, accostate con un attimo, che questi stronzi stanno arrivando in 40, con tre pulmini e quattro macchine. Manco se venisse con Sida. Non ho capito, chi sta arrivando? Ma come chi sta arrivando? Non li hai visti? Quelli qua fuori, con le magliette. Sono in Metallica. Che coglioni, guarda. Ma dove stai andando? Piano. Fermi, fermi, accosta lì, accosta lì. Fermati. Scusi, sì. Vieni sta macchina. Ma accostate lì, che stanno arrivando 40 stronzi con tre pulmini, due macchine, ma neanche fosse Cossiga, oh. No, non ho capito, chi sta arrivando? Ma non li hai visti fuori con le magliette? Stanno arrivando in Metallica, no? Vieni qua. Vieni qua. Wow. Oh